Buongiorno a tutti, sono una guardia giurata di Vicenza e chiedo gentilmente a tutti i miei colleghi di partecipare tutti quanti uniti e compatti per lo sciopero del 24 di dicembre, per avere finalmente dopo 54 mesi i nostri diritti, che nonostante la pandemia siamo sempre in prima linea. Come vedete la barba mi cresce e spero che prima o poi la riesco a tagliare. Un abbraccio a tutti e mi raccomando una forte adesione per il giorno 24.